ciao a tutti questo breve video per annunciarvi anche quest'anno il christmas calendar di trick track model ogni giorno alle 10 di mattina sul mio canale instagram pubblicherò un nuovo post a tema se ancora non mi seguite su instagram cercate trick track model nel caso non lo utilizziate non vi preoccupate dopo natale farò un video riassuntivo o forse più di uno qui su youtube di certo vi state chiedendo quale sarà il tema di quest'anno trick track voleva farvi aspettare il primo dicembre ma ho deciso di rivelarvelo subito treni e cinema ho scelto infatti 24 film diversi uno al giorno in cui compaiono dei treni o scene con treni e non vedo l'ora di discuterne assieme a voi vi lascio in descrizione il link al mio canale instagram e il primo dicembre ore 10 ciak si gira primo post a tema treni e cinema vi aspettiamo ciao